Volano gli stracci nel centro-destra toscano dopo i risultati delle amministrative. Se da una parte la Lega è arrivata ad insidiare il PD alle europee, dall'altra si è assistita ad una debacle per il voto nei comuni. Tra primo turno e ballottaggi non c'è stata la discesa del carroccio in Toscana, ma anzi, in questa regione il PD sembra aver ripreso vigore, nonostante le sconfitte in roccaforti storiche come Piombino e Cortona, ma mantenendo il controllo in tutti e tre i capoluoghi di provincia chiamate al voto, Firenze addirittura al primo turno, Prato e Livorno con risultati che non lasciano adito a dubbi ai supplementari. E allora, come già successo 15 giorni fa, scatta la resa dei conti tra le varie anime della coalizione, con il coordinatore di Forza Italia Stefano Mugnai, che continua a togliersi i sassolini dalle scarpe nei confronti della collega leghista Susanna Ceccardi, accusandola, senza neanche troppi giri di parole, di una gestione autoritaria nella scelta dei candidati, che in alcuni casi hanno fatto un buco nell'acqua. È il caso di Ubaldo Boccia Firenze, che nel frattempo starebbe pensando di non entrare in nessun gruppo di partito in Consiglio Comunale, ma di iscriversi al gruppo misto, ma anche di Daniele Spadà Prato, che non ha sfondato. Mugnai mette a confronto la gestione di questa fase delle amministrative con le precedenti, quando la Lega era guidata da Manuel Vescovi ed i candidati venivano scelti di concerto con la terza anima della coalizione, il coordinatore di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, una triade che aveva portato le vittorie di Arizzo, Siena, Grosseto, Pistoia, solo per recitare i comuni capoluogo. Non possiamo essere schiavi di chi prende il 3% a ruggito la leonessa di Cascina, un clima tutt'altro che conciliante in vista della scelta del candidato per le regionali. Quella fuga in avanti della stessa ceccardia arrivata ormai diversi mesi fa potrebbe essere messa da parte in nome di un candidato che possa mettere d'accordo tutti, ma che al momento pare lontano dal venire.